come devo somministrare il glucantime, quali sono le vie per fare in modo che il glucantime agisca e dia meno problemi al paziente. Prendo spunto dal post fatto da un'amica, si chiama Francesca Albanese, racconta che al cane è stata diagnosticata la leismagna, gli è stata proposta la terapia col glucantime e il curante gli ha detto che il glucantime sottocute è doloroso e quindi potrebbe farlo in vena. È un'opzione? No. Perché? Perché il glucantime è vero che in medicina umana, non in Italia, nei paesi del Medio Oriente, l'India, l'Asia, viene utilizzato in vena, diluito per determinati periodi, ma è anche vero che i pazienti umani con la leismania nel giro di 7, 12, 14 giorni vanno in remissione sintomatologica, cioè hanno la leismaiosi e gli passa. Ma questo non avviene nel cane. Nel cane già i 28 giorni standard di terapia non guariscono il paziente. Il paziente un anno dopo ha la malattia. Quindi pensare di riuscire a fare 30, 60, 120 giorni di glucantime in vena è impensabile. Perché il farmaco ha un'alta istolesività. Cosa vuol dire? Si mangerà le vene. Tutte le persone che hanno provato a fare il glucantime in vena, commentate se qualcuno di voi l'ha fatto, hanno perso quelle vene per uno, due, tre mesi e il cane non è voluto più essere toccato, fare punture perché gli fa male inizialmente lo dollara, poi no. C'è anche un problema di farmacocinetica importante, cioè come si comporta il farmaco. Il glucantime fatto in vena dura pochissimi minuti, una mezz'oretta, massimo un'ora, poi perde l'effetto. Quindi in teoria o glielo fai tre volte al giorno o glielo fai mattina e sera, quindi pensate già il problema. Fatto già sotto cute dura tre, sei ore. Ora, perché il glucantime brucia sotto cute? Perché i dosaggi non sono calibrati bene. Se utilizzate un ml per chilo sono problemi. Ve l'ho ripetuto, ve lo ripeto, il nostro centro sta ricercando e studiando delle modalità per guarire i pazienti col glucantime senza effetti collaterali. Oggi abbiamo una tecnica per poterlo fare e per trovare anche cure alternative. Se ci volete sostenere richiedete una consulenza e saremo lieti di portarvi fino a guarigione. Un bacione.